buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero iniziamo subito sperando che la ruota della fortuna non appaia perché sarebbe il quarto giorno di seguito e per il resto vi ricordo che potete chiedere informazioni sulle sessioni private o sui video corsi tramite il sito o tramite email sul sito trovate tutto comunque se volete fare un giretto io vi consiglio di andarlo a guardare anche perché ho veramente cercato di scrivere tutte le informazioni che possono interessare un follower o una persona appassionata di questo mondo tra l'altro in questo periodo ci sono anche un bel po' di aggiunte ai video corsi quindi magari controllate i programmi dei video corsi perché sto aggiungendo un sacco di materiale sia al primo livello sia al secondo livello di tarologia avanzata è rimasto invece invariato per adesso il video corso di magia d'amore e telepsichia ma fra un po' inizierò anche a fare qualcosa di nuovo ecco la prima carta è uscita vediamo un po' che cosa esce come energia del giorno mi servono anche oggi tre carte quindi ragazze ditemi voi chi di voi vuole uscire oggi oggi non volete uscire ah ecco ok 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 una due ah ne sono uscite quattro va bene quattro mamma mia oggi si parla di relazioni si parla di emozioni si parla di chi è questo che si intromette nella vostra vita privata so che non è per tutti eh lo so che non è per tutti però per qualcuno c'è un rompiscatole o una rompiscatole che si intromette nella vostra vita privata c'è un sì sì c'è proprio qualcuno che che vabbè mi viene da dire che è cattivo però sto dicendo una stupidaggine la cattiveria ecco se parliamo in modo spicciolo c'è il cattivo di turno la cattiva di turno se invece parliamo in modo consapevole come dovrei parlare perché comunque io non dovrei parlare da cartomante dovrei parlare da coach per insegnare davvero per trasmettere davvero qualcosa di utile a chi ascolta queste letture io spero davvero di trasmettere cose utili non tanto da da dirvi eventi gli eventi diciamo che li potete trovare un po qua e là ma le cose veramente utili sono quelle relative a come affrontarli gli eventi e come soprattutto guardarli come recepirli come vederli e come elaborare la realtà cioè io cerco di trasmettervi la mia mappa del territorio e in modo tale che voi possiate sovrapporre la mia mappa del territorio che è quella di una persona che ha fatto un certo tipo di percorso di crescita personale alla vostra mappa del territorio per vedere appunto sovrapponendo il mio modo di vedere la realtà sovrapponendolo al vostro modo di vedere la realtà per poter trovare magari quelle informazioni utili che vi aiutino a migliorare il vostro cammino a farlo andare più verso una direzione di equilibrio di serenità di gioia di comprensione consapevolezza con questo non sto dicendo che sono un guru e che ho la verità assoluta assolutamente perché noi coach noi counselor siamo i primi ad imparare a continuare ad imparare giorno dopo giorno però è chiaro che ciò che abbiamo imparato lo trasmettiamo agli altri e quindi ecco che questo è un po lo scopo di tutto dunque non c'è una persona cattiva c'è una persona che ha problemi e questi problemi causano emozioni negative e le emozioni negative causano atteggiamenti distruttivi piuttosto che costruttivi o ecco adesso sono soddisfatta perché ho usato un linguaggio appropriato però è chiaro non è così con tutti queste queste per qualcuno di voi che ha situazioni che si trova in situazioni soprattutto situazioni nell'ambito della relazione o della coppia o magari anche per carità in ambito professionale dove ci sono personaggi che interferiscono in maniera pesante o fastidiosa però ecco per qualcuno di voi c'è questo personaggio che è un po falso un po molto vedo la falsità diciamo queste due carte qui parlano un po di falsità e di cose dette per ottenere certi risultati di finta amicizia di finte di buonismo finto buonismo il fatto è che mi preoccupa perché lo vedo dopo un due di coppe e il due di coppe invece è una carta molto bella che parla di amore parla di complicità parla di relazioni parla di due persone che si guardano negli occhi e si scambiano reciprocamente i propri sentimenti le proprie emozioni le proprie il proprio punto di vista la propria energia c'è uno scambio sincero tutto inizia con uno scambio sincero dopo però dopo questo scambio sincero ci sono interferenze che possono addirittura essere anche più persone potrebbero essere due persone che interferiscono non solo una ed è come se con questa forza con l'energia dell'amore con l'energia più pura bisogna lavorare per risolvere quello che non va per qualcosa che con questo dieci di spade non si è ancora concluso per qualcosa che avrebbe già dovuto essere finito ma per qualche motivo non è ancora finito per qualche motivo continuo ancora a far male infastidire a rompere le scatole vediamo qual è l'alternativa per quelli di voi che magari non vedono interferenze non le percepiscono beh o se non le vedete non le percepite o appunto ci sono ma non le vedete oppure se non ci sono perché è un oracolo giornaliero valido per tutti quindi magari qualcuno non si trova in questa situazione ecco che queste due carte stanno a rappresentare il fatto che nel nostro mondo relazionale dove il sentimento c'è dove l'amore c'è ed è un amore pulito comunque ci sono delle parti di noi che interferiscono perché le carte di corte come insegno nel primo livello le carte di corte o sono personaggi oppure sono parti di noi quindi se nonostante il nostro amore ci sono delle parti di noi che interferiscono perché non sono capaci di comunicare bene e non sono capaci di esprimere bene le emozioni ecco che questo provoca un rallentamento nella fine di situazioni fastidiose quindi provoca come dire delle incomprensioni provoca dei ritardi nel far pace o nel chiarire una situazione o nel riuscire ad andare avanti più serenamente quindi ecco il consiglio piuttosto che vi do da queste carte è state attenti o ad altri o a voi stessi che poi la butto lì per chi la chi la può capire la capisca perché questi sono concetti sono concetti abbastanza avanzati in ambito esoterico in ambito psicologico anche poi la stessa cosa e il nostro mondo esteriore riflette il nostro mondo interiore quindi se al di fuori di noi se nel nostro mondo qualcuno è falso con noi vuol dire che noi siamo falsi con una parte di noi stessi cioè una parte di noi è falsa con un'altra parte di noi esempio io sto con quello perché sono innamorata di quello anche se mi tratta male sì ma tu ti stai prendendo in giro giustificando il suo comportamento negativo nei tuoi confronti tu ti stai prendendo in giro da sola lo stai giustificando anziché dire a te stessa devi mollare questo è un esempio di casi in cui noi ci prendiamo in giro da soli quindi ecco quando fuori se e quando c'è qualcuno di fuori che è manipolatore che è poco sincero e poco onesto andiamo a guardare dentro quale parte di noi è poco sincera poco onesta e manipolatrice andiamo a guardarci dentro con noi stessi lo facciamo ma ovviamente questo se siete davvero interessati a questo tipo di lavoro e la sede più giusta sono le sessioni di life coaching e se ne parla lì e si fa veramente lì si può fare un bel lavoro con chi ha già una certa consapevolezza su questi argomenti ma vediamo un po adesso vediamo un po adesso che io in effetti percorsi migliori quelli più produttivi li ho fatti con persone che avevano già iniziato un cammino spirituale e avendo già iniziato un cammino spirituale erano più erano agevolati nel comprendere certi concetti nell'abbracciarli non solo mentalmente ma anche praticamente quindi ecco la regola dello specchio di cui abbiamo appena parlato quando il mondo fuori rispetta il mondo del riflette il mondo dentro è un conto è saperlo in teoria è un conto è riconoscerlo nella pratica di tutti i giorni o per meglio dire di ogni secondo della nostra vita ma chi già conosce l'argomento è ovvio che ha più facilità in un percorso con me nel nel comprenderlo sotto ogni punto di vista e nel riuscire anche a metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni e perché non vuole uscire la carta angelica su su me ne serve una e io continuo a mescolare ma non scappa niente allora visto che non scappa niente la prendiamo così ok abbiamo un 10 di aria ecco questo 10 di aria che corrisponde al 10 di spade corrisponde a questa carta quindi qualcosa che dovrebbe finire ma che ritarda a finire e vediamo questa carta cosa ci dice allora questa carta ci dice che questa è la fine potenzialmente di una situazione difficile che dobbiamo accogliere il cambiamento che dobbiamo che se noi accogliamo il cambiamento ed è qui che abbiamo difficoltà ad accogliere il cambiamento ma se noi riusciamo ad accoglierlo le cose andranno meglio dobbiamo guarire dalla dipendenza e la dipendenza ragazzi non è solo da droghe alcol e sigarette la dipendenza è un qualcosa che riguarda anche e soprattutto le relazioni private dobbiamo guarire dalla dipendenza se riusciamo a accettare questo concetto a farlo nostro ecco che la smetteremo anche di prenderci in giro o di farci prendere in giro dagli altri che è la stessa cosa per oggi ragazzi io vi saluto potete andare sul sito o inviare una mail per le sessioni private e altrimenti noi ci vediamo domani